Le immagini del console Claudi che mette in salvo bimbi afghani all'aeroporto di Kabul ci hanno riempito di orgoglio. Un po' meno venire a scoprire che il nostro ambasciatore Sandalli sarebbe stato tra i primi a lasciare l'Afghanistan il 15 agosto scorso, mentre i suoi colleghi dei paesi più importanti sono ancora sul posto a coordinare le operazioni di evacuazione. L'ennesima pagina buia di una politica estera imbarazzante, in mano ad un ministro imbarazzante. Ma oggi, per gestire la possibile andata di profughi, non basta l'umanità straordinaria di chi ancora ci rappresenta nell'inferno di Kabul ed è addirittura dannoso il bonismo ideologico della sinistra. È doveroso mettere in salvo chi in questi anni ha collaborato con la missione internazionale e non a caso noi dei Fatali d'Italia lo chiediamo da tempo e per troppo tempo siamo rimasti colpevolmente inascoltati e oggi il governo è in ritardo. Ma di certo non possiamo dare il messaggio, come fa irresponsabilmente la sinistra quando evoca i corridoi umanitari senza alcuna distinzione, che l'Italia e l'Europa siano pronti a spalancare le porte a milioni di afghani che volessero fuggire dal nuovo regime talebano. Dovrà essere la comunità internazionale a farsi carico di loro, a partire da quell'America di Biden responsabile di questo suicidio, coinvolgendo e sostenendo le nazioni confinanti. Troppo comodo, cari compagni, fare gli zerbini plaudenti di Biden e poi quando le scelte del vostro campione democratico portano alla catastrofe umanitaria, pretendere che sia l'Europa a farsene carico e addirittura gettare la croce addosso ai cattivi governi sovranisti che giustamente richiamano al realismo, proprio come fa l'europeista Angela Merkel. A ciò aggiungiamo che questo buonismo non farà che fornire ai talebani stessi e probabilmente ancora una volta alla Turchia di Erdogan una straordinaria arma di ricatto contro l'Europa. E alle cellule terroristiche di Al-Qaeda e ISIS, ancora presenti in Afghanistan, la possibilità di infiltrare terroristi tra i migranti, un rischio segnalato in questi giorni anche dai nostri servizi segreti. L'Occidente ha certamente molto da farsi perdonare nel paese degli Aquiloni, ma lo faccia cercando di salvare per tempo chi ha collaborato con la nostra missione e ora rischia la vita e di garantire, con tutti gli strumenti possibili, condizioni migliori agli afghani che rimarranno lì, a partire dalle donne, dai bambini, dalle minoranze etniche e religiose come quella cristiana. Il resto è il solito buonismo ipocrita di cui proprio non lo abbiamo bisogno.